Com'è nata questa indagine? È frutto di una mappatura delle zone di spaccio del Pescarese e anche delle zone limitrofe che hanno determinato un'attività di indagine scaturita da alcune situazioni sospette che abbiamo verificato e che sviluppando con attività di monitoraggio dei soggetti hanno portato all'indicazione di questo passaggio di sostanza stupefacente. Dottor Costantino, parliamo di un sequestro record a Pescara di droga, tra l'altro droga che era destinata probabilmente al mercato del Pescarese e questo è ancora più preoccupante? Sì, gli elementi che abbiamo raccolto finora e che sono comunque oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi ci inducono a ritenere che il carico fosse destinato a essere poi distribuito sulla piazza locale o comunque sulle piazze immediatamente limitrofe a quella di Pescara. È un elemento che ci induce ad una riflessione, sicuramente. Per quanto riguarda la droga, sul mercato al dettaglio, volendo quantificare quanto avrebbe fruttato? Dato l'ingente quantitativo parliamo di cifre che si aggirano intorno ad 1.700.000 euro al dettaglio. Un'indagine conclusa, nelle ultime ore è partita non certo per caso. Stavate monitorando una certa zona e determinate persone? Diciamo che è il frutto, l'espressione concreta di un quotidiano, direi, contatto con determinati ambienti, con determinati soggetti che sappiamo muoversi all'interno di dinamiche illecite dove si traffica in sostanze stupefacenti. Grazie a questa sorveglianza si è acquisita poi un'informazione sviluppata nel corso del tempo, anche relativamente breve, poi c'è stata l'attività operativa vera e propria iniziata e conclusasi lungo l'autostrada 25 nella giornata di ieri.